Oggi sono qua perché ho raccolto il suggerimento e l'input dell'onorevole Calderone per verificare la situazione della viabilità complessiva in questo segmento della provincia di Messina, a seguito soprattutto, ma non solo, del sequestro che la Procura ha posto in essere sui cavalcavi di competenza del CAS, ritenendoli non adeguati e non sicuri per la circolazione stradale. Noi abbiamo immediatamente come Governo regionale compulsato il CAS al fine di poter dimostrare quali sono gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che si stanno mettendo in essere. In effetti c'è tutta una pianificazione che il CAS ha già rappresentato alla Procura della Repubblica. Siamo fiduciosi che entro breve ci si potrà confrontare su questo e finalmente possono essere dissequestrati questi manufatti al fine di consentire anche al Consorzio Autostrade di procedere con gli interventi di messa in sicurezza di questi cavalcavia. Senta in grado di darci dei tempi certi? I tempi certi non dipendono da noi, noi possiamo soltanto stimolare questi interventi, possiamo stimolare il CAS al fine di presentare un programma credibile con dei progetti che possono confermare la bontà degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Devo dire che comunque c'era una pianificazione, se considerate che tra questi manufatti sequestrati viene uno su cui passa anche il treno e quindi continua a passare il treno, attenzione. Quindi significa che poi così insicuro non è, però attenzione, è giusto che la magistratura faccia il proprio corso, faccia le proprie indagini, i propri accertamenti e con la stessa siamo però pronti a un confronto serio e nell'interesse collettivo per ripristinare a questa zona appunto quella normale viabilità che merita proprio perché come avete detto voi qua le imprese sono in grande difficoltà e rischiano appunto dei danni non indifferenti. Le settimane scorse sono stati fatti vari incontri anche perché non c'è soltanto il problema dei cavalcavia, qua c'è il problema appunto della ripavimentazione ad esempio se voi vedete sulla A20 ci sono vari tratti che sono stati già completati, uno oggi sarà aperto che è quello appunto che dal chilometro 32 arriva sino all'ingresso, a poco prima all'ingresso di Milazzo ma immediatamente dopo ci sono anche altri tratti che sono in corso di pavimentazione, qua sarà pavimentato tutto sino a Falcone al chilometro 61 circa, 63 circa, quindi significa che sia nel direzione appunto Palermo che da Palermo direzione Messina, quindi significa che c'è tutta una iniziativa che va verso la manutenzione e la sistemazione del circuito infrastrutturale stradale e autostradale. L'impegno del governo siciliano, dell'assessore Falcone è tangibile e la prova è la sua presenza oggi qui per capire, comprendere, verificare anche su sollecitazione del gruppo di Forza Italia di Termevigliatore e di Rodimilici, perché ci tengo a precisarlo questo, i nostri consiglieri, i nostri assessori e il nostro sindaco attuale, perché come sapete a Termevigliatore c'è un commissario, il nostro sindaco attuale di Rodimilici ha sollecitato questo incontro e ovviamente Marco Falcone che tutti conosciamo e conoscete non si è fatto pregare ed è qui presente per verificare esattamente come stanno le cose. Oggi un appuntamento importante a Termevigliatore e l'assessore Falcone per analizzare da vicino il problema dei questi cavalcavia che è sequestrati dalla procura, che qui a Termevigliatore interessano sei su sei, quindi tutti. Sì, chiaramente un gravoso problema per le attività del comprensorio, in particolar modo sappiamo le attività florovivaistiche, gli autotrasportatori, gli operatori turistici, chiaramente danneggiati da questa chiusura. Abbiamo, come diceva lei, sei su sei, quindi tutti cavalcavia interessati dalla presenza di semafori e chiaramente con l'avvicinarsi della stagione estiva potrebbe essere un problema veramente importante. Già è stato un problema l'aver affrontato gli ultimi tre mesi con queste chiusure perché gli autotrasportatori non possono transitare su cavalcavia in quanto è proibito il transito ai mezzi superiori a 3,5 tonnellate. E sapendo bene l'enorme traffico di mezzi pesanti che interessano Termevigliatore, soprattutto nella stagione primaverina, per la presenza del florovivaismo, capiamo bene che è un problema molto rilevante. Ed è per questo che oggi l'assessore è qui presente su nostra sollecitazione perché noi interpretiamo in questo modo la politica, vogliamo che vengano risolti al più presto i problemi che interessano il nostro paese perché possa sempre splendere e affinché tutte le bellezze del territorio possano avere risalto e che il nostro territorio non sia solo conosciuto per questi problemi che interessano la viabilità o altre problematiche di questo genere. Devo dire che il nostro gruppo è Calderone per Terme, noi siamo vicini all'onorevole Calderone, non si è mai fermato nella nostra attività politica con i cittadini del nostro comune. Dimostrazione è che oggi abbiamo messo a disposizione di tutta la cittadinanza la possibilità di interloquire con l'onorevole Marco Falcone, che lo sanno tutti, l'assessore all'infrastruttura della nostra regione e con il nostro onorevole di riferimento l'onorevole Tommaso Calderone. Tutto questo, anche se non c'era nulla da dimostrare perché noi, chi vive nel nostro comune, lo sa che siamo stati sempre vicini ai cittadini, alle problematiche dei cittadini e che ci siamo sempre e comunque messi a disposizione, nonostante la situazione che si è venuta a creare purtroppo non per colpa nostra, ma si sono verificate delle situazioni, come hai detto tu prima, che purtroppo non abbiamo in questo momento un sindaco a termogliatore, ma abbiamo il commissario. Detto questo, il nostro impegno presente, passato e futuro sarà sempre ed esclusivamente per il bene del nostro Paese, per portare avanti tutte le problematiche che ci sono nel nostro Paese, alcune le abbiamo già sviscerate insieme all'onorevole Falcone, che lui si è dimostrato sempre vicino alle nostre richieste e soprattutto cercheremo di fare i fatti perché a parole siamo tutti bravi, i fatti purtroppo sono in pochi che li fanno e l'onorevole Calderone con la sua politica e con il nostro apporto sicuramente faremo tante cose belle per il nostro Paese.